E ormai i contenuti sono tutti verticali, ormai bisogna per forza di cose fare video verticali, quindi bisogna passare a TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels, e quindi bisogna adeguare anche quelli che sono i nostri vecchi software per andare a puntare su queste nuove piattaforme. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e oggi vi parlo da un mondo distopico caduto nelle mani di un dittatore cattivo in cui siamo tutti quanti in qualche maniera costretti a realizzare contenuti verticali con un formato orrendo, quando è così bello vedere i nostri video orizzontali che quindi riempiono bene il nostro campo visivo, invece dobbiamo andare tutti quanti a osservare quelle cose a fettuccina che tutti quanti teniamo in mano che sono di una scomodità incredibile. Ciò non di meno, dobbiamo farlo perché tutti quanti abbiamo in mano quel maledetto affare e quindi se vogliamo rapportarci con una platea che ci stia in qualche maniera a sentire dobbiamo andare a lavorare su un mezzo che hanno in mano tutti quanti ogni giorno. Sono qui oggi per farvi vedere come è possibile realizzare il formato dei Reels, degli Shorts e di TikTok anche su un'applicazione come After Effects. Ho fatto questo video per quanto riguardava Premiere, mi è stato caldeggiato anche per quanto riguarda After Effects. Andrò a farvi vedere due modi di creare un documento che sia adatto a queste piattaforme. Sono due modi estremamente semplici e sono entrambi validi. Vi permettono di creare un documento che sia verticale e che abbia già le dimensioni giuste per essere poi caricato sui nostri cellulari. Poi ovviamente a seconda della piattaforma possono esserci criteri e canoni diversi. La durata può cambiare, il colore può cambiare, possono cambiare i frame rate, possono cambiare tante cose. Però la creazione di base del canovaccio su cui noi andiamo poi a inserire i nostri contenuti può tranquillamente essere la stessa. E comunque vi farò anche vedere come si vanno a cambiare i frame per secondo e quindi come si va a modificare il nostro progetto in maniera tale da adeguarlo di volta in volta alla destinazione finale su cui intendiamo spenderlo. Prima di iniziare però vi ricordo che questo è un canale che tratta sovente argomenti come la fotografia, il videomaking e il design. Io personalmente lavoro in un'agenzia web per cui ho tutti i giorni le mani conficcate saldamente in questi sacri temi. Per cui se uno di questi temi o tutti quanti ti interessano particolarmente io ti invito a iscriverti così non ti perdi i prossimi contenuti. E se vuoi essere sicuro di ricordartelo attiva anche la campanella. Perfetto amici eccoci qui all'interno dell'interfaccia di After Effects. Ora noi abbiamo diversi modi per creare una composizione che sia adatta per esportare una storia di Instagram oppure un TikTok oppure uno shorts di YouTube. Il formato fondamentalmente è lo stesso. Andiamo a vedere il primo modo. Noi possiamo cliccare su nuova composizione. Qui come potete vedere abbiamo le dimensioni classiche standard che sono 1920x1080. Quello che dobbiamo fare è andare a invertirle. Per cui andiamo a digitare 1080x1920. Lasciamo square pixel. Lasciamo 25 frame al secondo. A me non piace. Potremmo fare 23,97 anche se in realtà molte di queste piattaforme lavorano a 30. Per cui io andrei a selezionare 30 fotogrammi al secondo. Mezza risoluzione. 20 secondi va benissimo. Sfondo nero. A questo punto noi abbiamo creato la nostra composizione e possiamo andare a lavorare all'interno di questa composizione. Quindi per esempio possiamo andare a prendere dei materiali che possono essere foto o video e possiamo andare a inserirli. Quindi li importiamo prima in questa finestra di dialogo. Successivamente possiamo prenderli e trascinandoli qui vedete che questi materiali vengono importati all'interno della nostra timeline. Questo è un video di prova che ho fatto semplicemente per fare questa dimostrazione. Quindi è un video fatto con il mio iPhone in cui vediamo la mia luce, la Godox SL60V. È una ripresa di 5 secondi fatta appunto giusto per dimostrazione. Una volta che abbiamo importato tutte le nostre risorse e siamo quindi pronti a esportare il nostro formato finale, quello che dobbiamo fare è prendere l'area di lavoro e trascinarla fino al limite. Se teniamo premuto il tasto shift vedete che c'è una guida calamitata per cui andiamo esattamente a margine. A questo punto possiamo andare a esportare la nostra composizione con media encoder o tramite render queue di After Effects se non abbiamo media encoder o se siamo pigri. Io consiglio di utilizzare media encoder. Quindi questo è il primo modo e probabilmente è il modo migliore per creare la nostra composizione ma ne esiste un altro. Ovvero noi potremmo andare a prendere il nostro file, quindi il nostro materiale importato, potremmo andare a prenderlo da questa finestra e trascinarlo sopra questi concini che è l'icona della nuova sequenza. Se noi lo lasciamo andare vedete che quello che è successo è che è stata creata una seconda sequenza, quindi non è più composizione 1 ma è una sequenza che si chiama esattamente come il file e ha ereditato le caratteristiche del file. Ora se noi volessimo modificare la composizione andiamo a selezionarla da qui, quindi abbiamo selezionato a questa seconda composizione, andiamo su composizione e composition settings ovvero impostazioni della composizione e qui vedete abbiamo a disposizione questo pannello da cui ci rendiamo conto che il frame rate è di 29,98 quindi sostanzialmente 30 frame al secondo. Infatti il nostro smartphone, la maggior parte degli smartphone ragionano già in maniera compatibile con queste piattaforme e quindi già ci dava il formato più vicino possibile a 30 frame al secondo. Per cui questo è il secondo modo di impostare la nostra sequenza in maniera corretta per andare poi a fare i nostri lavori all'interno, mettere i nostri effetti, tutto quello che vogliamo e andare infine a esportare il nostro formato finale per il nostro contenuto multimediale da postare poi sui social media. Bene amici, come avete potuto vedere niente di traumatico. Utilizzare After Effects è una botta di vita perché è un programma immenso, veramente tosto da utilizzare. Però creare una timeline per creare il nostro primo reel o il nostro primo TikTok o il nostro primo shorts non è stato tanto difficile, dai. Uno dei due metodi era sostanzialmente automatico e l'altro era molto semplice. Era sufficiente ricordarsi un paio di numerini che in qualche maniera dovremmo già sapere. Io spero che abbiate trovato qualcosa di utile in questo video. Se avete domande, suggerimenti o ci sono altri argomenti che non ho affrontato con il grado di profondità che avreste gradito, vi prego di farmelo sapere in un commento in maniera tale che io possa rimediare in un video futuro. Vi aspetto nei commenti per qualsiasi domanda e vi do appuntamento ovviamente al prossimo video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.